Noi riteniamo che con la cultura e con l'arte Napoli debba battersi e può battersi e può anche sconfiggere la camorra, la criminalità e la violenza. Non a caso abbiamo adottato lo slogan dell'AMPI per dire proprio questo. Per il 74esimo anniversario delle quattro giornate di Napoli è previsto in città un programma di iniziative culturali che il Comune ha organizzato per tenere vivi gli ideali della resistenza e ribadire l'impegno quotidiano contro la camorra e la violenza. Dal 28 settembre al 1 ottobre alle celebrazioni ufficiali si aggiunge un calendario di eventi dedicato quest'anno all'intellettuale antifascista Roberto Bracco che l'assessorato alla cultura ha messo a punto insieme con l'AMPI, con l'Istituto Italiano per la Storia della Resistenza Vera Lombardi, con la Fondazione Premio Napoli ed il contributo di enti, associazioni ed artisti. Quest'anno le quattro giornate sono dedicate a Roberto Bracco anche perché ci prepariamo l'anno prossimo che è un anniversario che lo riguarda direttamente a sviluppare con l'Istituto Campano per la Storia della Resistenza, con il Premio Napoli, un ampio programma dedicato alla sua figura di drammaturgo e di grandissimo intellettuale esempio di dignità, di coraggio e ricordare soprattutto la sua mancata segnazione del Nobel, frutto appunto della discriminazione fascista. Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito del Comune.